Per poter capire se so portatore sano o meno nello stesso momento nei confronti degli altri. Lei ha un soggetto da proteggere, una famiglia? Io ho un nipote, ho una moglie, ho una figliola, ho un genero e poi tutti quelli che mi stanno intorno, quelli che ci stanno intorno, però i poveri. Territori sicuri arriva nel comune di Capolona, qui c'era stato un picco di contagi. Tra i positivi anche il sindaco e il comandante della Polizia Municipale, oltre 1.500 i cittadini che hanno aderito. Il vostro sindaco è positivo e poi mi diceva anche? Il capo della Polizia Municipale, che purtroppo con un controllo insieme al sindaco sono risultati gli unici due positivi del comune di Capolona e tutta l'amministrazione. Abbiamo fatto a seguito di queste positività tutti un tampone di controllo all'inizio della settimana scorsa e più un altro a fine di questa settimana per avere un po' la situazione chiara e avere la certezza della negatività di tutti. Si va a individuare i positivi negli asintomatici. Naturalmente ricordo sempre a tutti quanti di indossare la mascherina, fare il lavaggio delle mani e indossare i guanti in quelle situazioni tipo luoghi pubblici, supermercati e quant'altro che aiutano ad abbassare l'incidenza di quello che possiamo riuscire per il contagio. Molto male si vive in questo periodo, soprattutto per il lavoro, perché il lavoro per il nostro settore, io sono nel turismo, è un disastro, però diciamo che si cerca di reagire in qualche modo. Famiglia l'ha fatto solo lei o tutto il nucleo familiare? A parte mia mamma che è anziana, il resto l'abbiamo fatto tutti praticamente.